Buongiorno ragazzi benvenuti alla Eat Parade anno 2011 state ragazzi al quinto posto troviamo Din Don Den Mettila! Non vedi che sto presentando? Al quarto posto invece troviamo Danza Panza una nuova canzone scoperta che ci ha molto appassionati mi sono iscritto a danza l'ho fatto per la panza ma la trippa era un po'... al terzo posto invece troviamo U I U A A una canzone che io personalmente adoro U I A A Ce Ce Noi U I U A A Ya invece al terzo posto troviamo Colore Giorni Miei che è anche l'hinno dell'estate ragazzi 2011 e tu sei qui in un battibaleno stai felicità che colore smettila! non lo smettila Comunque al primo posto la canzone più gettonata dell'anno la canzone più ascoltata dei radioascoltatori la più ballata nei centri estivi Danza Kuduro! la mano arriva la cintura sola la mia volta linea allo studio vado